...dalla, da cambio che metti? no, allora pedalate così il motore puoi memorizzare tra 30 e 90 pedalate al minuto tu le memorizzi e lui te la fio per cui io metto le 80 pedalate e poi cambio a seconda della... ...si super mortirolo 90 pedalate ...e... ...se fermano esse io nella trapporte ...e... ...no, no, 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 no...